Se non brucia dentro, a dispetto di tutto, non farlo. Se non viene dritto dal cuore, dalla mente, dalla bocca, non farlo. Se lo fai per denaro, lo fama, non farlo. Se lo fai perché vuoi donne nel tuo letto, non farlo. Se è pesante il solo pensare di farlo, non farlo. Se stai cercando di farlo come qualcun altro, lascia perdere. Se devi aspettare che cresca dentro te, aspetta pazientemente. Se non rugisce dentro te, fai qualcos'altro. Se devi parlarne prima con tua moglie, la tua ragazza, con i tuoi genitori o con chiunque altro, non sei pronto. Non essere stupido, noioso, pretenzioso. Non farti consumare dal tuo ego, non farlo. A meno che non venga dalla tua anima come un missile, non farlo. A meno che il sole che hai dentro non bruci le tue viscere, non farlo. Quando sarà il tempo giusto e se sarai stato predestinato, arriverà e continuerà a farlo fin quando morirai o quando morirai in te. Non c'è altro modo. Non ce n'è mai stato un altro. Non ce n'è mai stato un altro.